amici essere transgressivi va bene ma non è quello che pensate voi c'è un paracarlo c'è un'altra strada mi ferma che aspetto ma scapirete perché sto aspettando ecco praticamente una manifestazione di allevatori credo e comunque ci sono tutti i trattori che fermano la strada siamo partiti da poco insomma ci sono chilometri di codi dietro di noi davanti siamo capitati proprio praticamente nel momento giusto in cui iniziano a fare questa manifestazione così hanno bloccato la sul ponte hanno dato fuoco ai pneumatici ci sono i pompieri ci sono la gendarmeria di sommossa insomma dovrei fare il mio lavoro di giornalista ma niente perché io in francese non ci so parlare quindi ti posso solo mettere delle immagini e in più stavo pensando che i trattori che magari si scordano nel frattempo vanno a lavarsi laggiù così tanto per far passare un po di tempo non so per quanto ne avremo ancora comunque sia io devo anche andare in bagno ma ci andrò ci andrò magari in autostrada vedete quel signore la in bicicletta raggiù in fondo ebbene secondo me ha deciso di fare lo sfericolato oggi perché è salito da quella salita poi è sbucato qua in autostrada e secondo me vuole andare in bicicletta in autostrada oggi lo potrà fare secondo me sì va bene e intanto noi siamo qui e poi partiremo non so quando ma prima poi partiremo intanto dormo ciao